Con la presenza del Brescia Calcio Femminile, Clara Gorno, ormai ci siamo, siamo arrivati a questa prima edizione della BCF Dream Cup Sogniamo Insieme. Sì, ci siamo, manca poco, è stata molto impegnativa come organizzazione, quindi ringrazio proprio tutte le persone che ci hanno sostenuto e ci supportano perché è stato impegnativo ma siamo molto contenti. Non è stato facile ma è stato programmato con largo anticipo, già quest'inverno si parlava di questa manifestazione. Sì, ci vuole tempo per pianificare e poi è un evento molto importante che richiede anche delle delicatezze, diciamo così, anche delle attenzioni particolari, quindi ci siamo mossi da tanto tempo, ci siamo mossi. Sappiamo che lei è una Presidente che è molto al dentro l'inclusione e il sociale e quindi questo è anche nell'ottica di questo fatto. Sì, anche se quest'anno per la prima volta il Brescia Calcio Femminile verrà riconosciuto come scuola calcio elite, quindi diciamo la parte sportiva non viene dimenticata, anzi è importantissima perché siamo una squadra di calcio, però credo che come nella vita in generale non bisogna dimenticarsi del sociale perché abbiamo davvero il dovere di lasciare un pezzo di mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Stava proprio parlando prima con alcuni dirigenti della squadra disabili della Feralpi Salò ad esempio. Sì, esattamente, stavamo parlando con il dirigente Fabio e alcuni ragazzi giocatori e siamo veramente felici perché parteciperanno anche loro, in questi tre giorni ci saranno anche loro, quindi è bello anche questa partecipazione a livello locale sul territorio e per il territorio. Che messaggio pensate di lanciare? Ma il messaggio che pensiamo di lanciare è Sogniamo Insieme, quindi tutti possiamo sognare insieme, possiamo divertirci insieme e saranno tre giorni di grande festa dove magari qualcuno può sentirsi solo, non sa cosa ben fare a Pasqua, può venire qua perché è tutto gratuito, ci saranno i gonfiabili, lo street food, dei convegni anche per sensibilizzare, perché è un nostro dovere anche sensibilizzare su alcuni argomenti anche un po' delicati e con persone, anche con la poliambulanza che ci affiancherà, è sempre un nostro obbligo, quindi insomma vi aspettiamo perché il messaggio è Sogniamo Insieme. Dopo questi tre giorni sicuramente saranno tutti più ricchi dentro? Sì, penso proprio di sì, anche se sento che ogni giorno io mi arricchisco quando vedo, vivo anche le ragazze perché quando parliamo di inclusione a me viene da dire anche per quanto riguarda il femminile, è una questione di inclusione e quindi sì, penso che saremo tutti più sorridenti e più felici. Naturalmente parteciperanno anche le ragazze del Brescia, della prima squadra, della primavera e le giovanili? Sì, assolutamente sì e questo insomma nonostante sono giorni di Pasqua quindi anche un po' particolari perché tanti magari possono andare via con la famiglia, in realtà c'è molta partecipazione anche da parte delle nostre ragazze, le nostre leonesse, quindi questo mi fa molto felice.